La sua battuta molto rotante, fa entrare in campo molto la palla, come tale l'idea Volley Bologna si trova in condizioni di non riuscire a ricevere, due ace fruttano un ulteriore break. Ora in questo momento è stato un recupero favoloso tra Sara Paris e la Giuliana Luco ovviamente non si fa trovare sorpresa a muro e realizza il diciannovesimo punto per la Icos.